Fabrizio dopo una brillante carriera di calciatore fuoriclasse e costellata di successi fino all'ambito pallone d'oro scopre di avere un male incurabile e così decide di tornare nella sua casa di montagna dove vive suo figlio che non vede da molto tempo. Un viaggio ritroso per l'ex numero 10 che complice un docufilm sulla sua vita che si sta realizzando proprio in quei giorni cerca un possibile ricongiungimento con un ragazzo che vive isolato dal mondo nascosto in una remota casa dove l'unico rumore è il vento che sibila attraverso le finestre e la storia poetica di Perla, l'ultimo cortometraggio scritto e diretto dal regista originario di San Michele di Bari Alessandro Porzio realizzato con il contributo della Puglia Film Commission e destinato nell'anno appena iniziato a partecipare a diversi festival italiani e stranieri e a prestigiosi premi come il Davide di Donatello. Girato tra la Basilicata e la Puglia con tappe ad Altamura, Cassano e Ceglie Messapica per gli interni, Perla racconta una storia complicata e stratificata nel tempo sotto il profilo concettuale ma anche artistico. Un rapporto padre figlio fatto di poche luci e tante ombre emotivamente devastanti per l'erede del campione e anche l'emergenza Covid ci ha messo di suo visto che le riprese sono state concentrate tutte in una settimana in rispetto ai protocolli previsti. Un corto che è il quinto lavoro di Alessandro Porzio la cui filmografia contempla cortometraggi già noti alle giurie dei Nastri d'Argento, del Bifest, di Venezia e del Festival di Roma.